Questa è una bellissima foto di famiglia, come potete ben vedere, che ritrae un po' i miei antenati. Una foto di famiglia fatta a casa decorato, a casa del bisnonno Riccardo, incontrando la pandorfera d'Andrea. Per me è bellissima perché c'è la mia nonna Natalia, la nonna paterna, c'è la bisnonna, il fratello della nonna, il bisnonno, il notario Riccardo Decorato, ci sono i civita, ci sono anche i prelati, c'è il vescovo e tutto. Sicuramente era appunto una riunione di famiglia fatta lì, di quei tempi. Qua stiamo parlando del 930.